Con otto arresti nell'arco di sei mesi è stata smantellata dalla polizia stradale del Piemonte una banda che si dedicava al traffico illegale di pezzi di ricambio per automobili nel nord Italia. Le vetture venivano rubate in autosaloni, concessionarie, officine e auto rimesse nelle zone di Cuneo e di Torino, poi erano portate in luoghi isolati o capannoni dismessi nei dintorni di Milano o del capoluogo piemontese per essere smontate. L'ultima ordinanza di custodia cautelare che riguardava il principale esponente del gruppo è stata eseguita dalla squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Roma ad Ardea, dove il ricercato, uno straniero di 39 anni, per sfuggire alla cattura aveva chiesto e ottenuto l'ospitalità di un connazionale. A procedere è la procura di Cuneo.